buongiorno a tutti bentornati nel mio canale in questo video vorrei rispondere a una domanda che ultimamente mi è stata posta molto spesso le persone mi hanno chiesto se io oltre a leggere i tarocchi dritti li leggo anche rovesciati e quindi siccome me l'hanno chiesto veramente in tanti negli ultimi tempi ho pensato di fare un video e quindi rispondere a tutto tanto cogliere l'occasione anche per dirvi qual è la mia opinione in merito perché dovete sapere che sulla lettura delle carte dritte rovesciate c'è un dibattito infinito c'è chi sostiene che assolutamente vadano letti anche rovesciati c'è chi sostiene che assolutamente bisogna leggerle solo dritte le carte c'è chi sostiene che si possa fare un po entrambe le cose a seconda delle situazioni insomma ci sono veramente tantissime opinioni diverse e io in questo video vorrei darvi semplicemente la mia opinione quindi quello che vi dirò io non è la verità assoluta è quello che assolutamente bisogna fare ognuno fa come si sente però ho pensato appunto di darvi anche la mia opinione di raccontarvi un po qual è il mio punto di vista in merito intanto dovete tenere presente una cosa ci sono tantissimi metodi di lettura delle carte ce ne sono veramente tanti alcuni addirittura ne hanno inventato di nuovi quindi ci sono persone che magari utilizzano un loro metodo di lettura molto personale che magari hanno ideato loro stessi quindi ci sono veramente tantissimi tantissimi metodi di lettura e quindi ognuno a seconda del metodo di lettura che utilizza dell'approccio che utilizza sceglie se leggere le carte dritte o rovesciate quindi tenete sempre presente questo non esiste un metodo unico universale esatto e che vada bene per tutti perché non è assolutamente così come la penso io dunque io penso che leggere le carte rovesciate sia un modo per andare a confondere un po la simbologia perché perché l'arcano è un archetipo rappresenta un archetipo quindi un modello primordiale innato che va a rappresentare la natura umana quindi rappresenta modelli concetti istinti primordiali che sono presenti in ognuno di noi tanto è vero che jung parlava di inconscio collettivo di archetipi dell'inconscio collettivo se volete sapere qualcosa di più su questo tipo di argomento vi posso segnalare un libro che si intitola proprio archetipi dell'inconscio collettivo che è stato scritto da jung e in cui vi spiega un pochino meglio il concetto di archetipi e di inconscio collettivo però vi dico subito che non è un libro sui tarocchi i tarocchi non c'entrano assolutamente niente con questo libro però se vi interessa capire un po meglio questo concetto esiste questo libro che non è proprio di lettura facilissima perché richiede un pochino di basi di psicologia però è un libro piccolino quindi se per caso vi interessa siete curiosi io magari ve lo lascio in info box quindi considerando che gli arcani sono archetipi dal mio punto di vista sono già completi così come sono senza bisogno di capovolgerli aggiungendo significati perché lo scopo di leggere la carta rovesciata è quella di dare significati ulteriori a quelli che hanno già perché noi abbiamo 78 carte dritte se noi le rovesciamo avremo 78 carte rovesciate e quindi altri 78 significati che in tutto fanno 156 e quindi avremo tantissimi significati però dal mio punto di vista per quello che è il mio approccio non mi serve avere tanti significati mi serve riuscire a trovare quelli giusti in quella specifica stesura quindi per me per quello che è l'approccio che utilizzo io sono sufficienti 78 arcani così come sono perché la simbologia mi dà le risposte che mi servono lasciandola esattamente così com'è senza andarla a rovesciare e questo è il motivo per cui io personalmente leggo le carte dritte e non le leggo rovesciate in generale comunque il significato che viene dato alle carte rovesciate è quello di blocco o comunque di significato opposto rispetto alla carta dritta più o meno in linea generale sto dicendo ovviamente però è un qualcosa che io non sento io non sento di dover fare perché non sento di aver bisogno di questa cosa poi ovviamente ci sono invece persone che leggono le carte che invece hanno bisogno anche della carta rovesciata e quindi va bene anche che la leggano rovesciata non c'è una regola fissa diciamo così inoltre tenete presente che i mazzi di tarocchi sono tanti e sono tutti diversi uno dall'altro ce ne sono alcuni che magari sono un po più simili però in generale ognuno ha la sua simbologia io sapete che li colleziono quindi ne ho tantissimi adesso ne ho preso qua con me solo alcuni perché ne ho veramente tanti quindi non volevo portarli tutti qua tutti insieme però tanto per farvi un esempio io ho diversi mazzi di tarocchi ho i classici tarocchi di marsiglia ho i tarocchi della spirale che si ispirano alla tradizione celtica quindi hanno una simbologia tutta particolare poi ho i tarocchi degli angeli che sono i cosiddetti mazzi tematici e quindi magari vanno utilizzati per un determinato scopo per una lettura sicuramente più introspettiva più spirituale quindi ovviamente sono legati a una simbologia tutta particolare soprattutto questi degli angeli ho fatto un video se volete andare a vederlo hanno proprio una simbologia particolare poi ho i classici tarocchi dei visconti che sono quelli più antichi ho fatto un video anche su questi se volete vederlo poi ho i tarocchi rider white quindi anche quelli di questi ne abbiamo già parlato poi ho l'antico tarocco italiano ma ne ho anche altri tipi o i tarocchi egiziani o i tarocchi del graal insomma ho veramente tantissimi mazzi di tarocchi e ogni mazzo ha la sua simbologia quindi a seconda del mazzo che sceglierete di usare tenete presente che ci sono dei simboli particolari che voi sicuramente dovete andare a tenere presente quindi anche nella lettura delle carte rovesciate dovete sapere un po gestire questa cosa quindi quando sceglierete se leggere le carte solo dritte o solo rovesciate tenete anche presente della simbologia di quel singolo mazzo ovviamente questa è solo la mia opinione il mio metodo perché so che ci sono tantissime persone che leggono le carte e non rinuncerebbero mai alla lettura delle carte rovesciate non è il mio metodo però è una cosa che io comunque non non critico non giudico perché ognuno fa quello che si sente di fare io spero in qualche modo di avervi risposto fatemi sapere nei commenti come la pensate al riguardo perché sono veramente curiosa di sapere anche qual è la vostra opinione io per oggi mi fermo vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima